Buonasera e benvenuti a questo forum della sezione Asia del Centro Studi Interreligiosi della Gregoriana. È con vero piacere che accogliamo questa sera Antonino Drago, che è una figura storica del pensiero e dell'attivismo non violento italiano. Tra l'altro nel 2000 ha anche ricevuto il premio nazionale Cultura della Pace per il suo impegno in favore della difesa popolare non violenta e per la ricerca di metodologie alternative alla guerra per la risoluzione dei conflitti. Antonino Drago ha insegnato storia della fisica a Napoli per tanti anni, ma ha insegnato proprio questa materia, il contrasto, la difesa popolare non violenta, alle università di Pisa e Firenze nei corsi di scienza per la pace. Lui ha una competenza trasversale per quanto riguarda la non violenza su cui ha scritto vari saggi, ricordo soltanto alcuni volumi, difesa popolare non violenta o la non violenza come riforma della religiosità cristiana. Vi invito eventualmente a consultare la sua pagina Wikipedia per chi fosse interessata alla pubblicazione completa. E quindi Tonino Drago conosce tutto il pensiero non violento occidentale e orientale, però è uno specialista di Lanza del Vasto e di Gandhi. Per quanto riguarda Lanza del Vasto è anche un membro delle comunità dell'Arca che sono le comunità fondate da Lanza del Vasto sul modello degli Ashram gandiani, anche se impostati, diciamo, in una forma maggiormente occidentale. Ecco, personalmente il mio, diciamo, ci sono incrociati i nostri destini quando io siccome ho scritto la mia prima tesi di laurea su Lanza del Vasto e io così mandai, spedì la mia tesi a Tonino Drago e ricordo che lui non era d'accordo con me, criticò la mia chiave di lettura e poi dopo qualche anno mi telefonò e mi disse avevi ragione. Ecco, e qui insomma è nata poi una collaborazione con lui e nel 2001 mi ha invitato al convegno che lui organizzò presso la Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, ma in collaborazione anche con l'Istituto Italiano, gli studi filosofici in occasione del centenario della nascita di Lanza del Vasto. E tra l'altro Papa Francesco, quando nel giugno del 2019 è andata nella Facoltà Teologica San Luigi che è gestita dai Gesuiti, ha ricordato, ha ricordato la figura di Lanza del Vasto. E, insomma, questo convegno del 2001, io devo essere molto grato a Antonino Drago, ha anche segnato l'inizio della mia vita accademica e quindi li sono riconoscendo. Con lui abbiamo anche organizzato nel 2007 un convegno a Pisa sulla filosofia di Lanza del Vasto e gli atti di questo convegno sono contenuti in questo volume, la filosofia di Lanza del Vasto, un ponte tra Oriente ed Occidente, pubblicato dalla Yaka Book. È la prima volta che in Italia si metteva in evidenza la figura di Lanza del Vasto come filosofo. E ricordo a questo riguardo che il corso di laurea in filosofia di Tor Vergata ogni anno premia le migliori tesi di laurea dedicate proprio a Lanza del Vasto. Lanza del Vasto, non so quante persone oggi lo conoscono, ma è un grande italiano, un italiano importante, è un poeta, ma è anche un filosofo che non solo ha, come dire, riletto il pensiero di Gandhi attraverso la Bibbia, ma è stato anche un autore spirituale e un teologo delle religioni, un uomo che ha fatto dialogo interreligioso. Per esempio Lanza del Vasto è stato il primo cattolico che da cristiano ha fatto un pellegrinaggio alle sorgenti del Gange, vent'anni prima che lo facesse Raymond Pannikar o Henri Lesso. E personalmente sono convinto che Lanza del Vasto sia un autore da riscoprire perché può arricchire la chiesa, può arricchire, diciamo, il cristianesimo contemporaneo. Con lui in fondo è nato un cristianesimo nuovo, un cristianesimo gandiano. Oggi, come dire, c'è ancora il rischio di un conflitto nucleare, ci sono conflitti interreligiosi, ci sono disastri ecologici possibili. Ecco, un insegnamento come quello di Lanza del Vasto può servire a evitare tragedie come queste. Tra l'altro Papa Francesco, nella sua enciclica Laudato Si, è esattamente anche su questa linea di critica alla tecnocrazia, che era uno dei temi di Lanza del Vasto. Quindi è un autore da riscoprire ed è per questo che, come dire, ascolteremo volentieri Antonino Drago. Ricordo che alla fine del suo intervento si potranno fare delle domande al professor Drago scrivendo una mail a forum interreligiosgiocciolaunigre.it, che è la mail che trovate nella locandina. E ricordo anche il prossimo evento, che sarà sempre a cura della sezione Asia, per il 19 aprile. Bene, io ho finito, diciamo, la mia moderazione e do la parola al professor Antonino Drago. Prego, Tonino. Buonasera a tutti. Io ringrazio molto Paolo Trianni per questo invito che mi onora e soprattutto l'Università Gregoriana. Io sono molto in simpatia con l'Ordine dei Gesuiti perché l'ho scoperto subito dopo il Concilio. È stato il primo ordine che dopo il Concilio si è trasformato profondamente e questo mi ha fatto un grande piacere. Ho visto Gesuiti lavorare tra i baraccati, ho visto partecipare manifestazioni, ho visto insomma un ordine che ha saputo mobilitarsi dietro questa spinta. Stasera sono un po' imbarazzato perché la figura di Lanza del Vasto è molto ricca, quindi le cose da dire sarebbero moltissime e quindi devo scegliere e farò una sintesi molto limitata e basata su alcuni punti particolari. Sono anche imbarazzato perché io sono di formazione scientifica, quindi non ho la finezza degli umanisti nel parlare di figure importanti come questa di Lanza del Vasto e tanto più che poi dovrò affrontare anche qualche problema di metodo perché di solito è d'inciampo a valutare questa persona. Comunque la mia presentazione sarà divisa in tre parti e questo dovrebbe facilitare le persone che seguono a stringere i concetti principali. La prima parte sulla vita di Lanza del Vasto, la seconda parte sulla sua lavoro di teologia o lavorio di teologia, la terza parte sulla filosofia trinitaria che lui aveva. Quindi sono tre argomenti in un certo senso abbastanza distinti, sono tre faccette del suo cristallo come lui amerebbe dire. Allora incominciamo la prima parte, la vita di Giuseppe Giovanni Lanza. Questo è il vero nome di Lanza del Vasto. Lanza del Vasto è un nome d'arte perché lui dopo la laurea non si fissò in nessun ruolo, fece vita d'artista e con un gruppo di artisti partecipò a diverse attività e per questo si diede un nome d'arte, Lanza del Vasto. È nato nel 1901 e morto nell'81. È stato un poeta, un drammaturgo, uno scultore, un musico non di piccola importanza, un filosofo e teologo si potrebbe dire all'aria aperta nel senso che non frequentava le biblioteche. In questo senso quindi non era un accademico, anche se si è laureato in filosofia all'Università di Pisa nel 1927. Anche perché dal 48 ha fondato comunità gandiane in Francia e poi anche in altre parti del mondo, anche in Italia, e a questo ha dedicato la sua vita in maniera molto profonda. L'attività intellettuale è stata limitata, anche se comunque riuscito a scrivere una ventina di libri. Allora, la biografia non la sto a enumerare con le date, eccetera, perché sarebbe lungo. Ho ricordato la nascita nel 1901 a Brindisi, in provincia di Brindisi, San Vito dei Normanni. L'episodio principale della sua vita è stato sicuramente il suo incontro con Gandhi. Negli anni Trenta è stato tormentato dalla domanda perché gli uomini vanno a ricadere sempre in questo flagello delle guerre. Già ce n'è stata una mondiale, se ne sta preparando una seconda. Come filosofo si vedeva impotente a rispondere a questa domanda e per la conoscenza che aveva avuto attraverso qualche libro di Gandhi, ha pensato che l'unico che potesse rispondere fosse lui e è andato in India a conoscerlo. Questo è l'episodio sicuramente centrale della vita di Lance del Basso, è avvenuto nel 37-38 e poi dopo l'altro episodio, dopo che è tornato in Europa, ha fondato Comunità, è stato quello del digiuno che lui ha fatto nel 63 durante il concilio per 40 giorni a sola acqua per chiedere al Papa con una lettera che condannasse le armi nucleari, che temperasse l'obbedienza a qualsiasi autorità, come dice San Paolo Romani XIII e che quindi desse un altro atteggiamento del cristiano rispetto all'autorità e rispetto alla violenza nel mondo. Ebbe la copia della Paceminteris in anteprima, che come le disse il segretario alla moglie che la ritirò, conteneva parecchio di quello che lui chiedeva. Infatti la Paceminteris chiede l'abolizione delle armi nucleari, purtroppo la chiede solamente. Ora, in che senso questa vita di Lance del Basso è stata importante? Ci sono almeno questi motivi per dire che è stata importante. Prima di tutto lui è stato in India dove ha avuto una conversione radicale, lui diceva, dalla testa in giù alla non violenza. Questo è avvenuto durante un viaggio in India di cui lui ha dato un resoconto attraverso un libro molto bello che è diventato un classico dei viaggi in Oriente, pubblicato in nove lingue e quattro editori in Italia, Pellegrinaggio e le Sorgenti, dove lui sa raccontare questo pellegrinaggio e nello stesso tempo sa raccontare la sua conversione. C'è un pellegrinaggio interiore insieme a un pellegrinaggio in questo mondo completamente nuovo. C'è un altro motivo che lui si è convertito ad un cristianesimo basato sulla non violenza. Questa è una novità totale perché diciamo certo c'erano stati cristiani che simpatizzanti della non violenza ma convertirsi fino al punto di chiedere a Gandhi di diventare suo discepolo e pensare di restare tutta la vita lì da lui è certamente questo è un fatto straordinario. inoltre lui è tornato in Europa perché ha sentito di avere una missione, una chiamata in un viaggio che lui ha fatto quando era vicino Gandhi, si è allontanato per andare sull'Himalaya a fare il pellegrinaggio che fanno tutti gli indiani devoti e là ha sentito una missione di tornare in Europa a fondare comunità gandiane. Allora questa capacità di testimoniare la non violenza in Europa praticamente per primo in Francia e c'era solo capitini qua in Italia che parlava di non violenza ma per il resto non c'era nessun altro, certamente è una cosa straordinaria. poi soprattutto, e questo è quello che ci interessa in questa sede, lui ha elevato l'esperienza di Gandhi a un sistema teologico e filosofico o perlomeno l'ha bozzato e questo è certamente un fatto straordinario perché Gandhi ha proceduto con i suoi esperimenti con la verità, cioè ha avuto un approccio pragmatico, diretto, esperienziale con la non violenza di tipo etico ma non ha mai scritto un libro se non la sua autobiografia, non aveva il tempo, l'ha fatto quando era in prigione. Per il resto c'è una grande pubblicistica di Gandhi ma tutta di piccoli scritti. Danza del Vasto da buon discepolo ha portato questa sua capacità di innovare a un discorso anche intellettuale e questa sua innovazione è di tipo eccezionale perché tuttora con questa sua teoria lui ha delineato la crescita del male nel mondo fino a definire il peccato strutturale in maniera molto precisa. Lo vedremo tra un poco. Si può anche chiedere in che senso Gandhi a quel tempo rappresentava qualcosa effettivamente di nuovo e di innovativo. I giudizi su Gandhi sono disparatissimi e l'Accademia non sa bene da che parte buttarsi perché è un personaggio completamente diverso dai personaggi occidentali e quindi c'è poco da rifarsi ai giudizi correnti. Una cosa è sicura però che Gandhi ha preso in contropiede la civiltà occidentale perché solo lui ha saputo risolvere sempre e comunque i conflitti senza violenza e senza armi. Questo è straordinario, lo colloca naturalmente a livelli estremamente superiori a tutti i grandi uomini occidentali e tuttora deve essere approfondito perché c'è da chiedersi come mai è riuscito a questo. Questa capacità di risolvere i conflitti senza violenza correntemente la chiamiamo non violenza e c'è da chiedersi che senso ha allora la non violenza in Gandhi. Gandhi parla di una non violenza che è formata da due parole. La parola sanscrita usata da Gandhi è ahimsa che è l'unione di un alfa privativo e di una parola himsa che vuol dire grossolanamente violenza ma la cui radice però, questo è da notare, è han che significa uccidere. Quindi ahimsa in effetti significa non uccidere, il che è lo stesso insegnamento del decalogo ebraico che viene ripetuto anche dal Corano. Quindi è un effettivo ponte tra le religioni abramitiche e la grande religione hindù che ha generato anche il buddismo e che certamente è una delle religioni più importanti delle regioni orientali. Quindi questo punto non violenza non potrà mai essere svalutato per la sua importanza. È veramente di un'enorme importanza dal punto di vista di insegnamento religioso, perché va a cogliere il punto centrale del decalogo del Padre Eterno nella Bibbia. Il quinto comandamento è quello che incomincia subito i peccati sociali, dopo l'onore al padre e alla madre, e va a cogliere un insegnamento fondamentale anche dell'induismo. Ora, tenendo presente questo fatto, c'è da capire che l'induismo ha generalizzato la non violenza come un atteggiamento personale. D'altra parte l'ebraismo con il non uccidere l'accettato, però nei rapporti personali, nelle guerre assolutamente no. Ecco il punto cruciale su cui si inserisce Gandhi. Gandhi generalizza la Ahimsa alla vita sociale e nella vita sociale ai conflitti. Quindi applica la Ahimsa, cosa che non è stata mai fatta, alla soluzione dei conflitti e quindi non usa mezzi coercitivi, armi. D'altra parte, bisogna ricordare che Gesù Cristo ha detto, avete inteso che fu detto agli antichi, non uccidere. Chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio, ma io vi dico, chiunque sia ad ira col proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Ecco un'altra generalizzazione che è esattamente un ampliamento ai rapporti tra le persone di a qualsiasi persona, compresi i fratelli e poi l'amate i nemici, dice ancora di più, amare anche quelli che sono al di fuori della nostra società, una generalizzazione di quel non uccidere. Ecco quindi un parallelo preciso tra ciò che ha fatto Gandhi generalizzare la Ahimsa tradizionale indiana e ciò che ha fatto Gesù Cristo con il non uccidere che è diventato amate i vostri nemici. Non è strano allora che al tempo di Lanza del Vasto c'erano scrittori che dicevano che Gandhi era un novello Cristo. E non è strano che Lanza del Vasto va da Gandhi dicendo che è colui che più assomiglia al mio maestro Gesù Cristo. Ecco allora il punto fondamentale da sottolineare quando si parla di non violenze che viene colto da Lanza del Vasto quando va da Gandhi. Cioè l'accettazione da parte di Lanza del Vasto della non violenza non è altro che un ritorno all'origine del cristianesimo. Quel cristianesimo che accetta senza se e senza ma il non uccidere e lo considera un comandamento, una direttiva da generalizzare a tutti i rapporti umani e in qualsiasi occasione. Così come dice Gesù quando dice amate i vostri nemici. C'è un collegamento stretto quindi tra i due insegnamenti Lanza del Vasto non fa che riconoscerla. Infatti la sua prima definizione di non violenza è l'amore, la caritas cristiana. La ripete per vari anni, poi cerca di trovarne di anche più precise, ma di fatto la prima definizione che dà la non violenza è la caritas cristiana e non credo gli si possa dare torto. Ora, un discorso del genere, e qui bisogna fare una nota perché queste cose non possono passare senza che ci si rifletta sulle opposizioni che incontra normalmente anche nella Chiesa cattolica, anche nel mondo cattolico. Una posizione del genere trova difficoltà perché nella nostra cultura, cattolica, noi siamo stati fino ad ora, in questi ultimi tempi, dentro una struttura culturale che è quella indicata dalla divisione tra incarnazionisti e scatologisti. Questo rappresenta un dibattito che è avvenuto prima del Concilio e che di fatto ha determinato il Concilio. Il Concilio di fatto ha preso posizione per l'incarnazionismo. La Gaudium et Spes ne è l'espressione, il preambolo della Gaudium et Spes ne è l'unico documento preciso indicativo. Per il resto non c'è stata una dichiarazione precisa e quindi in questo senso la gente ignora questo fatto che il Concilio ha preso una strada precisa che è quella dell'incarnazionismo. Ora, per gli incarnazionisti bisogna entrare nel mondo e nel progresso per farne da lievito. Questo è il concetto dell'incarnazionismo. Mentre gli scatologisti in opposizione ritengono che bisogna mantenere un distacco dalle strutture mondane, un distacco chiaro e quindi più o meno esteso secondo i vari atteggiamenti che ci possono essere. Ora, per il primo atteggiamento, l'incarnazionismo, la non violenza non serve nel mondo come impegno morale di buoni rapporti tra le persone, perché l'incarnazionismo deve far da lievito e quindi deve soprattutto riportare un discorso di buoni rapporti, ma non trasformare il mondo. Mentre invece per la non violenza di Gandhi e di Lanza del Vasto, c'è da cambiare tutto un mondo perché è pieno di conflitti questo mondo e i conflitti vengono risolti in maniera violenta. Quindi c'è un cambiamento radicale in questo mondo e che addirittura deve cambiare anche il progresso, su cui Gandhi era molto critico. Quindi per l'escatologismo la non violenza è un impegno di fede, non un impegno morale semplicemente, una buona azione. È un impegno che si lega strettamente alla fede cristiana. Ora, Lanza del Vasto chiaramente è uno scatologista. Allora, la critica qual è? Lanza del Vasto è fuori dal mondo, è fuori dal progresso e quindi come tale non partecipa alla Chiesa Cattolica che con il Concilio Vaticano si è realizzata nell'incarnazionismo, nell'atteggiamento incarnazionista. Ma ecco il punto di questi tempi che ha cambiato radicalmente la situazione. fare lievito nel mondo? Proprio l'anno scorso, anzi, sì, proprio l'anno scorso, due anni fa per dire meglio, Papa Francesco ha dichiarato immorali le armi nucleari che quest'anno, il 22 gennaio, sono state dichiarate illegittime dall'ONU che ha previsto un trattato per la loro abolizione, anche se questo trattato non è sostenuto da tutte le nazioni. Però l'ONU ufficialmente ha questo atteggiamento e il Papa ha fatto da apripista questa strategia e la condivide in piedi. Ora quindi nel mondo abbiamo un chiaro peccato strutturale dal punto di vista etico, il peccato delle bombe nucleari che sono non solo illegittime ma anche immorali, non solo nell'uso sul campo ma anche nel possesso e nell'uso diplomatico di deterrenza. Questo lo dice il Papa, l'ha detto Hiroshima, l'ha ripetuto più volte. Quindi oggi anche gli incarnazionisti devono accettare questa difficoltà che presenta il mondo. Il mondo non è un luogo, un campo aperto per un cristiano, ci sono degli off limits, le bombe nucleari, costruirle, progettarle, conservarle, salvaguardarle e legittimarle, è un peccato. Allora il cristiano, se incarnazionista, non può fare a meno di evitare questa parte del mondo. D'altra parte, Papa Francesco non si è limitato solo alle armi nucleari. Sappiamo bene che ha criticato anche altre strutture sociali, la struttura della guerra, la struttura della giustizia sociale, la struttura dell'ecologia, la struttura dell'economia. E quindi in questo senso il mondo oggi è problematico per il cristiano, non può essere accettato senza remore e pensare di poter far da lievito a qualsiasi situazione. Quindi in questo senso quella divisione escatologisti e incarnazionisti oggi non è più valida. Si è appannata, ha perso i confini. E quindi in questo senso tacciare l'anzo del vasto di essere un escatologista fuori dal mondo significherebbe mettere in discussione anche questo atteggiamento preso dal Papa Francesco negli ultimi tempi e quindi rimettere in discussione una nuova direzione della Chiesa che al momento, con tutte le difficoltà che ci sono, però è largamente partecipata. Allora, messa da parte questa valutazione di un escatologismo ingenuo, se si cerca una valutazione teologica tentativa sul pensiero di Lanza del Vasto, bisognerebbe ricordare che nel mondo c'è una corrente che si chiama ortodossia radicale cristiana, che però in Lanza del Vasto non è fondata sulle semplici idee, ma è fondata sull'esperienza pratica e storica realizzata da Gandhi e quindi in questo senso molto concreta e per di più, come adesso andremo a vedere tra un momento, basata anche su una interpretazione biblica precisa, cosa che nessun altro ha fatto. E con questo, allora, passiamo alla seconda parte, il lavorio teologico di Lanza del Vasto. Se uno prende la serie dei suoi libri, vede che lui si è fissato volta a volta su una serie di idee che danno il percorso intellettuale della sua vita. È partito da un'idea, tutto è Trinità, che l'ha colpito da quando era ragazzino e l'ha seguito tutta la vita, tutta relazione, ma poi ha scoperto che c'è il conflitto, che c'è una lotta tra bene e male, che c'è un male sociale tremendo, il fascismo del suo tempo, la guerra mondiale, ha scoperto con Gandhi la conversione, la non violenza come idea guida e quindi la comunità. E questo è il percorso intellettuale della vita di Lanza del Vasto, che è veramente molto interessante, registrato da una serie di libri in cui lui, studiando questi temi, esprime tutta la sua esperienza personale. Dopo la comunità gli nasce il problema della teoria e quindi la teoria del conflitto, bene e male, la teoria della conversione personale e, in buon ultimo, gli nasce il problema di quale logica per la Trinità che l'ha seguito tutta la vita. Allora, vediamo questa teoria del conflitto bene e male come lui la studia, studiando la Bibbia, riferendosi alla Bibbia. La Bibbia, lui, e questo è un colpo, secondo me, da maestro, la riassume con cinque episodi, i cinque episodi essenziali sulla lotta bene o male, altrimenti le migliaia di pagine della Bibbia sono veramente molto indigeste per un singolo cristiano di poca istruzione. I protestanti chiedono un grande sforzo quando chiedono di leggere la Bibbia, perché si entra in una serie di meandri sconfinati, con atteggiamenti molto spessi tipici della cultura del tempo che è difficile da separare da quello che è il succo della Bibbia. Qui si dà il succo della Bibbia, stretto, all'osso. I brani sono questi cinque. Genesi 5, il peccato originale, che non viene interpretato come peccato all'origine dei tempi, ma come peccato all'origine delle relazioni sociali. Subito, l'anza del vasto intende la Bibbia in termini di rapporti personali, di rapporti sociali. Quindi, in questo senso, il peccato originale incomincia subito a essere caratterizzato come peccato strutturale, non come peccato dell'individuo, Adamo, Edeva, leggendari, ma un peccato che ci coinvolge nella nostra trama di rapporti della vita associativa, in modo tale che ci vanno in mezzo buoni e cattivi, onesti e disonesti, legali e illegali. E in questo senso, questo peccato strutturale non può essere risolto da un uomo, deve essere risolto da un riscatto, non può essere risolto da un pentimento. L'uomo può convertirsi nei casamani, personalmente, ma non può eliminarlo dal mondo. Ecco il punto cruciale da cui lui parte con un'interpretazione che, secondo me, è molto importante perché, non esaminate parecchie, per convincermene non riuscivo a capacitarmi di questa sua capacità di trovare un'interpretazione così profonda, ma ho visto che intanto questa interpretazione è la stessa di Gandhi, sia pur molto stretta, che Gandhi crede al peccato originale e ne dà lo stesso tipo di interpretazione. L'uomo cerca di modificare l'intelligenza che Dio gli ha dato per approfittarsene, per fare un calcolo sugli altri e sulle cose a suo vantaggio. Questa interpretazione è anche quella che dà Cusano, che vedremo più avanti. Quindi in questo senso non è un'interpretazione ingenua, la sua è più evoluta, più elaborata, ma ha un retroterra sostanzioso. Secondo luogo, l'altro brano della Bibbia che lui prende effettivamente fa un salto, ma un salto importante perché ci porta subito a capire direttamente che cos'è il peccato strutturale. Apocalisse 6 e 8, dove si parla dei flagelli. Lui non si impressiona della visione metafisica di questi flagelli che dà l'Apocalisse, il libro dell'Apocalisse. Lui parla di flagelli fatti da mano d'uomo, perché miseria, servitù, sedizione, rivoluzione violenta e guerra, certamente, non sono flagelli che manda Dio, sono flagelli che si fanno gli uomini stessi. E come tale vanno interpretati. E la Bibbia ne dà un'interpretazione, nella misura in cui poi vede l'ultimo stadio di questo male sociale cresciuto dall'individuo ai rapporti di una società intera che comportano queste strutture di peccato, l'ultimo male è quello dell'Apocalisse 13, le due bestie che salgono dal mare e dalla terra, che lui, scandalosamente per l'intellettualità occidentale, interpreta come scienza e tecnica. Interpretazione non lontana da quella che aveva Gandhi, ma certamente molto più marcata e molto più segnata nella sua precisione. Naturalmente c'è da chiedersi, ma allora questa visione è una visione apocalittica, nel senso che si dà al termine usuale. No, lui non si fa stringere da un fatalismo. Ha anche la capacità di distinguere tra un fatalismo orientale, passivo, e un fatalismo occidentale attivo che come Edipo si costruisce il suo destino con le sue stesse mani. Lui ritiene che con tutta questa crescita il male strutturale può essere superato. Ma con che cosa? Con quella risposta che le religioni hanno sempre dato, la conversione che lui vede nelle beatitudini, che d'altra parte erano molto amate da Gandhi. Gandhi riteneva che se il cristianesimo fosse stato solo le beatitudini, lui sarebbe stato cristiano. Conversione sì però, ma non conversione solo a livello personale, ma a livello anche sociale e quindi strutturale. E quindi una conversione che capisce, conosce le strutture di peccato, sa uscirne con l'obiezione di coscienza, sa farne a meno, sa eliminare i rapporti con esse e addirittura costruire un'alternativa. Le comunità, ad esempio, come ha fatto Gandhi. In questo senso, quindi, lui non fa altro che ripetere quella che è stata la traiettoria di Gandhi, che era andato a Londra, era diventato un occidentale, poi ha capito che era una civiltà che non era la migliore, e allora si è opposto a questa civiltà, l'ha vista come una civiltà satanica, come dice lui, ma nello stesso tempo ha ricostruito la sua civiltà hindù e ha fatto della lotta per l'indipendenza uno scontro di civiltà, non con i missili, ma con la non-violenza. Questo è essenzialmente ciò che ha fatto Gandhi e l'ansia del vasto non fa che ripeterglielo con la sua interpretazione della Bibbia che sì, è un libro cristiano, ma che lui sa interpretare anche alla luce di altre religioni, quindi in questo senso, secondo una sapienza universale. E in questo senso, lui quindi propone queste sue interpretazioni, non come interpretazioni da cristiano, ma come interpretazioni sapienziali. Ora, questa, bisogna sottolinearlo molto fortemente, è la prima lettura sociale di tutta la Bibbia. Questo nel 59, quindi nove anni della nascita, prima della nascita della teologia della liberazione. Non abbiamo il tempo di soffermarci su queste interpretazioni che per me sono state affascinanti. Non ho trovato in tutte le ricerche che ho fatto qualcosa di simile, soprattutto quella delle due bestie con il numero 66 che lui ha il genio di concepire, non come un numeretto 666, ma come una serie che è esattamente il concetto tipico della matematica moderna. La matematica moderna si distingue da quella passata perché introduce le serie, cioè l'infinito. e l'ansia del vasto dice che la cifra della bestia, il nome, come dice l'apostico della bestia, è esattamente la tensione all'infinito che nasce con il peccato strutturale e che viene diretto verso obiettivi mitici che si rivedono fasulli perché non sono obiettivi spirituali e come tale sono la rovina causata da questo peccato. Lascio quindi queste cose perché se no prenderei molto tempo. C'è una nota anche qui da fare. Altri che hanno commentato queste interpretazioni dicono sì, però non ha una rete metodologica di interpretazione, non corrisponde alle interpretazioni critiche che si fanno oggi, non corrisponde all'analisi dei testi, non corrisponde a tutte le cose innovative che sono state introdotte sulla Bibbia per interpretarla. L'esegesi di Lanza del Vasto è ingenua, addirittura si può dire è azzardata perché appunto non ha un terreno su cui appoggiarsi. Ma io penso di poter dire che in effetti non si può escludere un'altra interpretazione, un altro tipo di esegesi perché tuttora avevamo un paradigma dato dalla filosofia perennis nei tempi passati, ma oggi con tutte le innovazioni non abbiamo un nuovo paradigma. Quindi non possiamo dire che chi non rientra nelle tendenze varie che ce ne sono oggi non ha validità. Tra l'altro io mi permetto di dire che io nei miei studi di storia della fisica ho espresso un metodo ermeneutico dei testi che si rifà da Negger al For Sixt al For Abe e al For Griff però introducendo una variante che posso dire casomai se qualcuno è interessato lo posso spiegare in altra sede corrisponde alle interpretazioni che danno Gandhi e Lancia del Vasto al Peccato Originale e a questi brani della Bibbia. Passiamo spero di non aver suorato troppo passiamo alla terza parte dopo aver visto la vita e aver visto la parte teologica principale ci sono tanti altri aspetti teologici di Lancia del Vasto la sua concezione dell'anima tante altre cose ma non abbiamo il tempo di farlo vediamo allora la parte filosofica come già dicevo da quando era ragazzo c'era questa idea delle triadi di ragionare con triadi che però concepiva tutto in termini statici e in maniera gerarchica l'unica dinamica che vedeva di mettere una triade sopra l'altra chiaramente non poteva andare molto in là con questo tipo di approccio che tra l'altro lui neanche sapeva che era stato preceduto in questo tipo di ragionamento da Proclo ma anche da persone dell'ottocento non indifferenti come il matematico Hamilton e il filosofo Peirce che ragiona in base a triadi e ci basa tutta la semiotica quindi non poco però i suoi studi a Pisa non hanno colmato tutta una serie di lacune lui poi dopo si è data come dice ha lasciato una filosofia molto stereotipata e si è data la vita concreta guardare la gente negli occhi piuttosto che i libri e quindi ha le sue lacune nella sua tesi di laurea che è intitolata approcci alla trinità spirituale una tesi di filosofia del tutto originale e strana sotto questo aspetto nella sua tesi lui dietro consiglio del professore che dice ma questo è un discorso troppo teologico mettici almeno un discorso di filosofico specifico se no come fanno in seduta di laurea a promuoverti e allora lui svolge una critica della filosofia occidentale che in sintesi può essere riassunta così la filosofia occidentale dal tempo di Cartesio ha perso il sé la famosa frase cogito ergo sum che crea un indovinello spacca cervelli di fatto ha perso il centro della persona va alla ricerca di un'esistenza attraverso la ragione e quindi come tale una funzione la ragione prende sopravvento sul vivere dopodiché nulla di strano se c'è una divisione tra sé res extensa e res cogitans e questo crea un macchinismo che diventa filosofia per un secolo dominante chiaramente questo non è una risposta filosofica profonda se non in quanto corrisponde alla nascita di una scienza che poi prende sopravvento sulla filosofia al punto tale che la filosofia si adegua la scienza dice Lanzo del Vasto e quindi da una parte diventa empirista dall'altra diventa razionalista con una divisione di fondo che Kant crede di conciliare ma di fatto produce lui gli ribalta la parola rapsodica produce una serie di categorie rapsodiche cioè che non hanno connessioni l'una con l'altra e quindi come tale sono un gioco infinito che non può rapportare alla risoluzione dei problemi anche se va vicino a un discorso del sé Hegel successivamente dice Lanzo il Vasto è una sana reazione cerca di recuperare una dialettica una maniera di vedere l'essere in maniera diversa ma pone le sue triadi in maniera strana completamente fuori da una logica vera e come tale quindi devia piuttosto che fare un passo in avanti d'altra parte Lanzo del Vasto è alla ricerca dell'unità questo è un punto di fondo che lo separa da tutta la filosofia occidentale che invece tra ontologia le idee in sé e enologia ricerca dell'unità ha scelto l'ontologia e l'ha fatta prevalere sulla enologia come tale Lanzo del Vasto è in una posizione molto diversa da quella di tutti i filosofi occidentali salvo Cusano che anche lui è un enologo salvo che purtroppo Cusano non ha avuto discepoli ed è stato dimenticato e solo in questi tempi si comincia ad avere una visione di insieme abbastanza adeguata delle opere di Cusano quindi è stato un illustre sconosciuto per cinque secoli Cusano è nato nel 1401 morto nel 1464 quindi è stato un illustre sconosciuto per una serie di secoli che hanno perso questo filosofo anche perché la sua maniera di concepire la filosofia non era quella corrente lo stesso Leibniz che pure gli sarebbe un po' vicino ha un rapporto molto lasco con Cusano che rapporto ha Lancia del Vasto con Cusano non posso soffermarmi sul fatto che Cusano propone la coincidenza degli opposti cioè cerca un salto di logica cioè vuole andare contro la contraddizione aristotelica contro la logica aristotelica contro la setta aristotelica che c'è nel suo tempo come la chiama lui e quindi vuole ragionare in maniera diversa lo dice Cassire nel 1927 quando studia Cusano dice Cusano cerca una logica diversa e secondo Cassire ci sarebbe Lancia del Vasto in questa logica che intuisce in Cusano ci incomincia già a fondare una teoria dei conflitti che è la prima teoria dei conflitti che viene prodotta tra i non violenti che dare un'analogia con una bilancia a due braccia tanto più le due braccia sono distanti tra loro tanto più in alto bisogna trovare il punto di equilibrio del fulcro per metterle in una situazione di stabilità questo punto in Dio c'è sicuramente quindi portando all'infinito come fa Cusano sicuramente c'è la coincidenza degli opposti di quelli che si contrappongono tra di loro ma Lanzo del Vasto ritiene che anche al finito si può trovare questo punto di equilibrio e questa analogia costituisce una maniera di suggerire un modo di risolvere i conflitti quello che invece vorrei sottolineare con cui stringo il discorso della filosofia di Lanzo del Vasto è una frase che lui dice a proposito dei rapporti tra buddismo e hinduismo tra religioni che a noi ci sembrano distanti che lui invece sintetizza in maniera icastica in maniera da dire con esattezza l'essenza delle cose ve lo dico con lentezza perché è un discorso molto profondo allorché l'indu dice sì a tutto pensate il politeismo degli hindu c'è anche il dio scimmio il dio serpente allora che l'indu dice sì a tutto conserva e accumula e s'adatta i contrasti come la natura stessa Buddha dice no al sì e no al no e no alla lotta del sì e del no ma le sue negazioni non sono negative sono mistiche e la negazione della negazione non implica una nuova affermazione non fa tornare un'affermazione conduce a una sospensione propizia a varcare la soglia è un trascendere io non ho trovato da nessun'altra parte mi occupo di letteratura di tutte negazioni da ormai quasi 40 anni ma da nessun'altra parte ho trovato delle frasi così incisive così sintetiche così profonde come queste ora il punto veramente forte di questa cosa che per molti è un giochetto linguistico è che la logica matematica dopo un secolo di sforzi di formalizzarsi in maniera precisa con la matematica ha riconosciuto che la distinzione tra la logica classica equivale o sì o no il terzo escluso e le logiche non classiche dove non vale questa legge è data piuttosto dalla legge della doppia negazione quando due negazioni affermano come si dice comunemente è la logica classica quando non affermano è logica non classica ora il punto che ci interessa direttamente è che non violenza sono due negazioni non è violenza che è negazione chiarissimamente e non c'è parola che riesce a sostituire non violenza quindi è essenzialmente una doppia negazione come tale dice la logica matematica questa introduce una maniera di ragionare completamente diversa da quella classica notiamo che anche non uccidere doppia negazione non uccidere come non rubare come non dire falsa testimonianza falsa testimonianza non come desiderare la donna d'altri il padre te già le usava le doppie negazioni sono indicazioni di metodo non sono idee ecco la differenza enorme profonda tra parole come casa sedia bello vero e non violenza le parole greche sono parole che indicano qualche cosa anche anche ideale però sempre qualche cosa non violenza è una parola che indica un metodo e quindi procede con una maniera di ragionare diversa da quella di dedurre analiticamente da un oggetto una serie di conseguenze quindi la conclusione è con la non violenza si ragiona in un'altra logica e vediamolo in Cusano Cusano c'è un bellissimo passo in una sua opera in cui dice noi abbiamo la teologia positiva che non fa altro che dire Dio è il bello Dio è il vero Dio è il buono eccetera eccetera questa è la teologia positiva poi c'è stata una tradizione di teologia negativa che dice Dio non è il mondo Dio non è l'uomo Dio è infinito Dio è immateriale eccetera eccetera ma notiamo che oltre queste due teologie nel concilio di Calcedonia la definizione di natura di Cristo come natura duplice è stata data con doppia negazione senza confusione senza mutazione senza divisione senza separazione quando poi la teologia ha voluto dare una sintesi del suo pensiero trinitario cristiano è uscito il cosiddetto simbolo di Sant'Atanasio del settimo secolo e su 53 proposizioni che ho contato 31 sono proposizioni doppiamente legate ecco allora il punto che voglio sottolineare Cusano ragionava in logica non classica pur non conoscendo e nonostante ciò ha anche individuato alcune leggi di logica non classica quindi veramente eccezionale purtroppo la sua opera più importante su questo aspetto scritta nel 1462 è stata scoperta nel 1880 quindi praticamente è poco più di un secolo che l'abbiamo scritta in una maniera che c'è da interpretarla e quindi come tale ancora è soggetta a molte discussioni allora ecco che mi concludo dando un tentativo di interpretazione di quello che in definitiva è il nodo su cui ci siamo rivolti e abbiamo cercato di chiarire il rapporto tra Oriente e Occidente rapporto tra Gandhi e Lanza del Vasto rapporto tra amore per i nemici e non violenza noi sappiamo che Oriente e Occidente è stato diviso per mille anni e in questi mille anni cosa è successo si può ben dire che l'Occidente si è bloccato su una sola logica quella classica e quindi solo sulla teologia positiva mentre l'Oriente tradizionalmente legato a un pensiero molto non formale prima di tutto molto libero e chiaramente legato a negazioni e doppie negazioni a tre negazioni a quattro negazioni quindi c'è da anche notare che poiché la non violenza faceva ragionare Gandhi nella logica non classica è chiaro che lui ha sviluppato una politica che era incomprensibile da parte della civiltà occidentale ed è chiaro allora che la conversione di Lanza del Vasto avvenuta sulla non violenza che comporta una logica diversa lo ha portato a una conversione anche logica e Lanza del Vasto infatti negli ultimi anni della sua vita dopo aver pubblicato la sua tesi ma ancora non era soddisfatto dopo averla rimaneggiata più volte la pubblicata ma si è reso conto che non era una versione definitiva andava cercando un novissimo organo una nuova logica una logica che lui non sapeva ben definire ma che certamente vedeva già in nuce in Cusani quindi in questo senso si era indirizzato molto bene sull'unico filosofo che giusto appunto gli poteva dare una base quindi in questo senso mi pare che la grandezza di Lanza del Vasto non è come nel caso della teologia in opere compiute interpretazioni ben definite da parte sua ma in una ricerca che è stata in una direzione che si è definita dal punto di vista della cultura scientifica giusto in quegli anni in cui lui andava cercando questo nuovo tipo di logica gli anni 60-70 e poi lui è morto nell'81 senza averla scoperta vi ringrazio per l'attenzione di questo discorso che ha messo insieme molta carne al fuoco spero che le idee centrali sulla vita sulla teologia e sulla filosofia li abbiate colte vi ringrazio grazie Tonino per la tua per la tua sintesi per la riflessione sulla non violenza che hai fatto partendo da da Gandhi e da Lanza del Vasto guarda noi abbiamo lavorato insieme insomma mi volevo insomma io fare due domande anche per completare un po' la tua esposizione vorrei che tu riprendessi un po' il discorso sulla vita di Lanza del Vasto perché è interessante anche raccontare la sua conversione al cristianesimo la famosa frase che lui lesse Dio è relazione ma non relativa perché è immutabile e questa frase lo riportò al cristianesimo proprio in relazione a quella concezione trinitaria di cui dicevi quindi ecco volevo che tu parlassi un po' della sua vita delle sue attività poi in Francia non violente e poi come seconda domanda volevo che tu parlassi anche dell'arca della sua spiritualità come si colloca oggi l'arca nella chiesa e che tipo di spiritualità di ascesi è richiesta alle persone che intendano farne parte intanto volevo farti queste due domande la vita e l'arca rispondo subito? sì sì rispondi pure subito beh sulla vita c'è tante cose da dire già ho elencato le sue faccette poeta musico lui è diventato famoso in Francia prima di tutto perché ha messo a quattro voci i canti medievali tradizionali francesi che sono bellissimi già da loro e lui li ha saputi valorizzare a quattro voci ha fatto un canzoniere pubblicato dall'edizione di Osserve in Francia e è diventato famoso per quello è diventato famoso come poeta a Brindisi nel 70 uno della provincia di Brindisi si era messa a leggere un enciclo di dio francese scopre l'Anza del Vasto va a vedere il luogo di nascita a San Vito dei Normanni Brindisi dice nessuno di noi lo conosce lo chiamò e fu qualcosa di rivoluzionario vennero lui e la moglie che lui faceva conferenze la moglie con lui la moglie aveva una voce stupenda che non ha d'uguale fino ad ora non ha sentito una voce come quella della moglie facevano duetti di canti popolari di canto gregoriano fatti a maniera loro l'Arca ha fatto una scuola di gregoriano che hanno incantato centinaia migliaia di persone si riunivano per andarli a sentire scusate quindi forse merita un po' essere raccontata anche proprio il ritorno dall'India e quindi come ha creato l'Arca come ha incontrato Shantarer che poi l'ha sposata e poi le attività ecco che l'Arca ha fatto qualche dato in più però questi li trovate già su Wikipedia cose del genere comunque lui andò in India perché una una persona gli offrì il viaggio altrimenti non avrebbe mai potuto farlo spiantato come era e vagabondo nella sua vita di artista secondo andato in India l'hanno derubato appena arrivato più o meno e quindi praticamente si è trovato nudo e crudo l'immedesimazione è stata veramente totale viaggiava a piedi molto spesso il pellegrinaggio all'Himalaya l'ha fatta a piedi non è arrivato in cima alle sorgenti del Gange però ne ha fatto un buon tratto e quindi ha vissuto l'India come pochissimi altri recentemente ho scritto un paragone con Siddhartha di Armanesse ma si è fermata a Silon Sri Lanka non è mai arrivato in India l'Anza del Vasso ci ha vissuto in mezzo al popolo in mezzo alla gente visitando i maggiori maestri e poi andando da Gandhi dove appunto si è dichiarato suo discepolo e Gandhi l'ha chiamato Shantidas cioè servitore della pace poi come dicevo ha avuto questa chiamata di tornare in Europa a fondare comunità gandiane e questa sua chiamata però chiaramente lo metteva in una tensione enorme perché come faceva lui piccoletto cambiare una civiltà intera come la civiltà occidentale dove c'era nazismo fascismo stalinismo a dire poco franchismo quindi vi potete immaginare cosa incredibile e ha continuato il pellegrinaggio a piedi è andato su Monte Athos in Siria in Palestina in Egitto fino a quando è scoppiata la guerra dopodiché si è trovata a Marsiglia dove lui italiano cittadino italiano per tutta la vita i francesi lo trattenevano per non sapere che cosa farne in questo tempo d'attesa ha conosciuto la moglie che studiava canti popolari è lì che lui è cominciato a imparare musica e a duettare con la moglie che poi ha sposato più avanti quando finalmente finita la guerra è morto Gandhi e trovate tre persone quattro persone che gli hanno chiesto dopo il successo del suo libro sul pellegrinaggio alle sorgenti all'Himalaya che ha venduto centinaia di migliaia di coppie nel 43 gli hanno detto tu sei una persona che ci può guidare formiamo una comunità allora è partito con la comunità e già lui aveva un certo seguito di persone con le quali commentava Vangelo lavorava a mano come è l'insegnamento di Gandhi è partito con la comunità e lì è iniziata l'avventura della comunità dell'Arca questa trasformazione totale che lui ha avuto da personaggio vagabondo di cui la madre si si disperava perché era il maggiore dei dei figli e non trovava impiego non si sapeva che cosa faceva trasformazione fissata su un insegnamento preciso netto con una costanza che chiaramente non ha avuto esitazioni per lungo tempo è stata veramente una conversione non solo spirituale dal punto di vista delle idee ma anche dal punto di vista umano che ne ha fatto un altro uomo ecco la conversione iniziale fu nel 24 come diceva prima Paolo leggendo questa frase di San Tommaso ma lui diceva che dopo questa conversione in cui visto che San Tommaso che lui non valutava perché era diventato ateo in quel periodo San Tommaso l'ha fatto ritornare al cristianesimo quella conversione era dalla testa in su poi il corpo faceva un po' quello che voleva mentre invece quando è andato da Gandhi in India la sua conversione è stata dalla testa in giù cioè è stata totale che dire poi della sua vita volevo siccome volevo ricordare la nostra mail per chi volesse mandare delle domande ripeto forum interreligious piocciola unigrea.it che è la mail che trovate nella locandina ma io Torino perché come centro studi interreligiosi ci interessa questa tematica volevo che tu ci parlassi un po' della spiritualità dell'arca della preghiera interreligiosa che si fa nell'arca e poi visto che è nato anche come ordine gandiano poi si è evoluto insomma volevo che tu ci parlassi di questa comunità e della sua forma di spiritualità io ho colto il punto nodale della riflessione teologica di Lanza del Vasto l'interpretazione della Bibbia che non ha d'uguali nel mondo anche al di fuori del mondo non violento e anche dentro il mondo non violento perché nessun maestro della non violenza spiega perché c'è il male perché c'è la violenza nel mondo solo Lanza del Vasto e lo fa nella maniera più solida possibile dando interpretazioni nuove di questi cinque brani però chiaramente da questo si è sviluppata tutta un'altra serie di conseguenze da parte di Lanza del Vasto che ha una sua spiritualità che ha saputo legare l'Oriente e l'Occidente in una maniera molto equilibrata per cui ad esempio nell'arca c'è lo yoga ma secondo scuole diverse nella comunità in prevalso scuole varie Yengar Deschanet però sempre in un atteggiamento in cui lo yoga non è una filosofia a sé stante rispetto alla spiritualità ma è qualcosa che serve a approfondire il lavoro su di sé perché il primo voto dei compagni dell'arca quelli che entrano nella comunità e che quindi fanno sette voti nelle comunità di Gandhi se ne facevano nove i sette voti sono lavoro obbedienza corresponsabilità e responsabilità obbedienza obbedienza l'ho detto povertà purità il lavoro mi pare il lavoro l'ho detto all'inizio e poi non violenza come ultimo allora il primo è il lavoro e il lavoro è molto ben precisato è previsto sotto tre aspetti il lavoro manuale perché nessuno deve dipendere dagli altri per quello che è la sua autosufficienza questo è l'insegnamento fondamentale di Tostoi e Gandhi e quindi la comunità dell'arca in campagna per produrre i mezzi di sussistenza per quello che è possibile in un mondo moderno che chiaramente ha stravolto tutta una serie di rapporti usuali lavoro manuale il lavoro su di sé e questo è il punto cruciale che l'ansia del vasto nella spiritualità pone questo devo sottolinearlo perché è quello che lui stesso scopre quando anche se lui già era preparato da sue letture sin da quando era studente che lui scopre nel mondo indiano il mondo indiano è quello che ha mantenuto per millenni la ricerca del sé interiore del sé in sé il lavoro su se stesso nell'occidente si può dire che questo lavoro è stato perso è stato perso perché la nascita di strutture istituzionali nel mondo cristiano e cattolico in particolare sempre più grandi ha fatto mettere in primo piano l'obbedienza l'appartenenza a una struttura piuttosto che il lavorare su se stesso in un atteggiamento di autonomia per approfondire con la propria intelligenza la vita interiore e il mondo protestante d'altra parte questo lavoro su di sé l'ha sostituito con lo studio della Bibbia che chiaramente è un lavoro su di sé ma mediato da un libro sia pur la Bibbia e attraverso un atteggiamento intellettuale di ragione che chiaramente non è l'unica maniera di lavorare su se stesso l'India ha il merito è per questo che la gente va in India per ritrovare le fonti della spiritualità l'India ha il merito di aver mantenuto questo atteggiamento profondo del lavoro su se stesso e il lavoro su se stesso e quindi la seconda parte del vuoto del lavoro la terza parte del vuoto del lavoro è il lavoro per la festa perché? perché dice l'Ansa del Vasto che il lavoro tra le persone unisce ma la festa unisce ancora di più e una comunità che non sa festeggiare non può sopravvivere e quindi la festa è un dovere nella comunità perché è una maniera di ritrovare l'unità perché tutto questo lavoro spirituale del sé non può che andare a ricercare l'unità in se stesso che secondo le frasi di Sant'Agostino noverim me noverim te conoscerò me conoscerò te non può far altro che farci ritrovare l'unità con Dio e quindi in questo senso la tensione di fondo è la tensione come dicevo primo enologica di ricercare l'unità e quindi la comunità è fatta di tanti individui ma deve ritrovare la unità almeno ogni festa possibile quattro sono le feste della comunità le più grandi il Natale e la Pasqua cioè le quattro feste i quattro tempi del zodiacale insomma quindi poi segnati con i simboli spirituali che si vuole ma San Giovanni e la Noachia la festa di Noè il 29 di settembre questo è un aspetto un altro aspetto ad esempio che in questa regola c'è un punto che giustamente l'Anselvastro ne andava orgoglioso non c'è nessun ordine religioso che abbia posto la corresponsabilità come voto si impone l'obbedienza si impone la castità si impongono tanti doveri su se stesso ma nei rapporti tra le persone non si impone quello che l'atteggiamento o non si chiede quello che è stato l'atteggiamento fondamentale di Gesù Cristo di sentirsi corresponsabili degli altri per questo Gesù Cristo è venuto al mondo perché si è reso corresponsabile del nostro peccato allora l'Anselvastro c'ha questo voto il terzo responsabilità e corresponsabilità che è il gioiello della sua regola si potrebbero prendere anche altri aspetti della sua vita spirituale quella della preghiera facendo una comunità gandiana perché è una comunità interreligiosa di laici esposati l'Anselvastro dopo il concilio fu ricevuto da Paolo VI che gli propose di entrare a essere riconosciuto nella chiesa cattolica ma lui rifiutò perché è una comunità interreligiosa che quindi non può entrare in nessuna chiesa autonoma indipendente da qualsiasi struttura sociale e anche religiosa essendo una comunità gandiana essendo interreligiosa quali preghiere fare? questo è stato un problema vivo tra le persone e l'Anselvastro ne è uscito sia richiamandosi alla preghiera di San Francesco che è compartecipabile a tutti la preghiera o Signore fa di noi uno strumento della tua pace che chiaramente è la preghiera più adatta a una comunità non violenta e poi inventando nuove preghiere che sono veramente molto profonde io le trovo le più profonde che abbia mai visto dopo il Padre Nostro preghiere come momenti di autoriflessione a proposito del lavoro di sé cioè la preghiera non come preghiera di richiesta anche magari una frase di richiesta alla fine ma una preghiera che al centro pone la capacità di essere coscienti di ciò che si sta facendo con se stesso non solo con la voce con la mente ma anche con tutto il proprio essere e quindi in questo senso una preghiera principale o Dio di verità che si rivolge a un Dio che è il Dio della verità che è lo stesso a cui si rivolgeva Gandhi perché tutti anche gli atei non possono fare a meno di rivolgersi alla verità e quindi in questo senso è intercomunia interreligiosa fondamentalmente e un'altra preghiera la preghiera intorno al fuoco bellissima che si fa di notte con un fuoco acceso al centro e stringendosi per mano in cerchio e riflettendo sul fuoco come simbolo universale di tutte le regioni in cui medesimarsi e da cui ricavare una spinta per elevarsi al cielo come le scintille possono salire al cielo e rivolgersi a Dio questo giusto per dare qualche glimpse perché volevo dare spazio ad alcune domande tra l'altro però faccio una piccola chiosa è molto interessante anche l'intuizione di Lanza del Vasto poi ripesa anche da padre Vannucci di dedicare ogni giorno nella preghiera ad una religione differente esatto esatto padre Vannucci ha ripreso l'idea ed è fatto un magnifico libro il libro della preghiera universale che ogni giorno prende una decina di 4 5 testi di una religione oltre la preghiera che ha fatto Lanza del Vasto che lui manipola un po' e poi ci aggiunge dei testi per cui ogni giorno si prega in maniera abbastanza profonda in comunione con altri che pregano diversamente come dice Lanza del Vasto la preghiera con coloro che pregano diversamente e quindi questa è un'iniziativa molto bella alla quale ci siamo arrivati con gran ritardo con le riunioni di Assisi ma che ancora non ha scoperto questa capacità di farne una pratica religiosa quotidiana con la quale veramente si cresce perché con partecipare alla preghiera di un fedele di un'altra religione ci dà un senso molto profondo del suo vissuto e ci fa capire quindi le dimensioni con le quali lui si direziona che sono diverse dalle nostre ma non per questo non sono positive e non per queste noi non le possiamo compartecipare da questo punto di vista Tonino che Lanza del Vasto sia un maestro del dialogo interreligioso sicuramente in anticipo grande anticipo su tutti i dialogi interreligiosi compreso quelli dei protestanti che era un dialogo intellettuale negli anni 20 e 30 andando da Gandhi lui ha rotto lui però non era nessuna istituzione quindi in questo senso la gente non lo ricorda ma come esperienza concreta lui praticamente ha dato un punto di incontro tra le fedi dell'Oriente e dell'Occidente e prima mi era dimenticato di dirlo ma vorrei sottolinearlo adesso è un punto di incontro nella fede perché con la non violenza compartecipata da Gandhi da Lanza del Vasto la non violenza di Gandhi compartecipata da Lanza del Vasto costituisce un punto di incontro delle fedi perché le fedi non solo diventano fedi in Dio ma diventano fedi nell'uomo perché per essere non violenti bisogna avere fede nell'altro uomo fede che l'altro uomo possa essere migliorabile possa essere rapacificabile ci si possa conciliare con lui questo richiede una fede cosa che quando si usano con le armi non si ha si ha una tolleranza si ha una disponibilità all'incontro si ha una capacità di sopportazione ma non di più mentre invece con la non violenza occorre avere una fede nelle persone questa fede accompagnata la fede di Dio è un'innovazione radicale della spiritualità sia dell'Occidente che dell'Oriente guarda abbiamo ancora cinque minuti volevo dare spazio ad una domanda da Napoli che penso che richiederà una risposta un po' articolata perché dice come possiamo tradurre il pensiero di Lanza del Vasto qui e ora nella nostra società e in questo mondo globalizzato cioè come si può rendere attuale il suo insegnamento non violento il discorso è già stato indicato di fronte a un male enorme che indicavo prima quello delle dei quattro flagelli delle due bestie dell'Apocalisse la risposta è sempre la stessa quella tradizionale di ogni religione la conversione però una conversione cosciente di tutto quello che ci circonda non è una conversione nel piccolo alla innominato come la racconta Manzou ma è una conversione che come quella di Gandhi sa affrontare le strutture di peccato e sa combatterci per cercare di limitarle o se non eliminarle e comunque costruirne un'alternativa come fare questo? richiede una persona adulta una persona non che ha una ricetta ma una persona che si costruisce un'esperienza di vita a forza di provare riprovare riprovare in questo lavoro spirituale di ricerca in se stesso e di risposte al mondo esterno per dare una un lievito cristiano anche alle situazioni negative richiede un'esperienza sulla quale si può costruire poi cosa fa la risposta brutale immediata è entrare in una comunità di canse del vasto le quali però bisogna notare che in questo momento non sono proprio come lui le aveva impostate perché come dopo ogni morte di successore nascono diverse tensioni nascono diversi interrogativi giustamente perché è ben chiaro io adesso lavoro a un computer il computer è una tecnologia chiaramente che potrebbe essere indicata come diabolica l'anzo del vasto non l'aveva anche altri gruppi spirituali non avrebbero mai voluto avere il computer ma oggi anche le suole di clausura hanno il computer e quindi in questo senso c'è una compromessa un compromesso da fare con il mondo circostante che non è una compromissione questo è l'importante come dice Gandhi fare dei compromessi ma non una compromissione che è molto delicata è molto delicata e bisogna saper trovare la via provando e riprovando anche le comunità dell'Arca in questo momento sono in questo cammino esperienziale in cui cercano di capire che fare prima ad esempio le notizie dell'Arca il giornaletto dell'Arca era stampato a mano come facevano investiti a mano e come riuscivano a fare tutto quello che potevano a mano le ceramiche eccetera adesso la stampa delle notizie dell'Arca era in tipografia e con apparecchi elettronici ci si comunica tutti con il computer e tutto questo che significa dal punto di vista spirituale è una novità che ci trasforma profondamente e come tale deve essere rielaborata per addomesticarla in funzione di quelli che sono gli obiettivi dei rapporti umani in modo tale da saper recuperare i rapporti con le persone anche nei conflitti in maniera diretta perché solo in quella marea diretta si può risolvere un conflitto solo se lo si tocca nella coscienza come dice l'Anselvast dove colpire l'avversario alla fronte al cuore no nella coscienza per poterlo fare ci vuole sacrificio e sapere trovare dov'è il punto della coscienza nella vita dell'altro tutto questo lo si fa con un'azione di lavoro se stesso in cui il digiuno è una delle armi una delle capacità che si hanno di approfondire questo rapporto e la riflessione e la meditazione tutto questo è l'esperienza umana perché la vita non è la vita in panciolle che ci presenta il mondo consumista ma la vita è la vita nella sofferenza di costruirci un progetto di vita e portarlo a termine secondo una direzione di lavoro che è quella di crescere di fronte a Dio e come tale richiede una piena capacità di assumersi la propria responsabilità del mondo e della propria progettualità il tempo a nostra disposizione è scaduto ma siamo veramente contenti ti ringraziamo della tua relazione perché insomma hai portato in Gregoriana all'interno di questa università una figura che vogliamo promuovere e rilanciare perché siamo convinti che il suo messaggio non violento la sua riflessione teologica la sua filosofia trinitaria meriti di essere insomma ripresa e meditata e rilanciata quindi grazie ancora grazie a te buona serata grazie tante e grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti